C'è un ritardo di trasmissione, stavo iniziato a registrare, ecco adesso siamo effettivi. Buongiorno a tutti siamo qua dalla vecchia control room di CMS, uno degli ultimi giorni prima del trasferimento alla control room nuova. Ci presentiamo, lei è Giulia Lavizzari, una nostra dottoranda, Aurora Perego, un'altra nostra dottoranda e io so che sarà difficile crederci ma non sono un dottorando, sono un ricercatore dell'INFN. Siamo qua oggi a P5, il famoso point five, dove uno dei punti collisione di LHC e vi mostreremo come funzionano le cose qua e andremo giù quasi 100 metri sottoterra per portarvi a vedere il nostro esperimento Compact Neon Solenoid. Purtroppo siamo ripartiti con l'attività quindi l'esperimento è chiuso, non vedremo tutta la sua bellezza, i cavi, tutta l'elettronica che potremmo aver visto qualche settimana fa, però è comunque molto interessante vedere tutta la struttura esterna, i servizi, la caverna e poi tutti i sistemi con cui si riesce a muoverlo, sistemarlo e quant'altro. Io scenderò giù mentre Giulia e Aurora rimarranno qua. Se volete dire qualcosa, volete iniziare a spiegare dove siamo su questa mappa? Lo dovresti vedere adesso, non so se l'avete già visto. Vai Giulia! Va bene, va bene, dove siamo noi adesso? Lo vedete a sinistra dove c'è il logo CMS, penso che vediate anche il mouse. Sì sì, va bene. Noi ci troviamo in uno dei quattro grandi esperimenti dell'LHC, l'introduzione ve l'hanno già fatta quindi suppongo sappiate che CMS insieme ad Atlas che vedete dalla parte opposta erano i due esperimenti multipurpose quindi disegnati per trovare in primo luogo il bosone di Higgs e poi altra fisica. Quello che vedete poi invece l'intorno è dove siamo geograficamente, cioè siamo vicini a Ginevra. Lì in fondo vedete il lago di Ginevra, sulla punta ci sta la città e nello sfondo il Monte Bianco, quindi questo è un ottimo posto per quelli che vogliono andare in montagna, sappiate, lo segnatelo a mente. L'anello come vedete è l'anello dei 27 chilometri che passa sotto tutta la regione. Potete vedere, immagino che vi sia già stato detto però, li vedete in figura, degli anelli più piccoli, quello azzurro qua per esempio dell'SPS, che sono le fasi preliminari di accelerazione delle particelle, cioè non vengono buttate direttamente dentro all'LHC ma passano prima da delle fasi intermedie in cui vengono accelerate diciamo a partire da velocità zero fino alla velocità sufficiente per entrare in LHC. E poi qua si sviluppano qua in fondo tutti i siti dove lavoriamo solitamente, cioè qua c'è diciamo la parte principale dove ci sono anche gli uffici e dove lavora chi non fa nulla di sperimentale e poi si trovano invece gli altri siti con gli esperimenti nei punti che vedete. Non so, Aurora vuoi aggiungere qualcosa? Come ha detto prima Simone, andremo 100 metri sotto terra, questo perché tutto il tunnel dell'HC è meno a questa altra partezza, principalmente per due motivi, perché in superficie ci sono le calde abitazioni e perché serve un territorio, un terreno stabile su cui appoggiarlo, perché altrimenti non schermare da reggi cosmici non è l'obiettivo principale, perché comunque anche se siamo sotto terra i moni nei raggi cosmici noi li vediamo. Da notare che questo è lo stesso anello che era stato utilizzato per un collisionatore precedente, elettrone e positrone, il LEP, e la precisione con cui erano arrivati a far collidere elettroni e positrone era tale per cui erano sensibili a un sacco di fattori, si chiamano in inglese environmental, che vengono dall'ambiente circostante, ad esempio il passaggio dei TGV, dei treni a alta velocità fra Ginevra e Lione, oppure le maree e la posizione relativa quindi della terra con la luna, questo per spiegare quanto delicate può essere una struttura del genere, quanto complicato può essere far accelerare e collidere delle particelle e pensate la lunghezza totale, come dicevano prima le nostre dottorandi, è 27 chilometri, però la larghezza del fascio, cioè la zona di interazione, ad esempio al centro ICMS, la dimensione trasversale dei fasci è di appena 10 micron, più o meno, quindi è inventato di dover controllare lungo 27 chilometri dei protoni in pacchetti di circa 10 alla 11 protoni ciascuno che si scontrano una distanza massima di 10 micron nel piano trasversale alla linea del fascio, una cosa che richiede molta elettronica, molta preparazione, molti codici complicati per far girare il tutto. L'acceleratore, l'HC, è posto anche leggermente in pendenza, non mi ricordo di quanti gradi, perché in caso di inondazione comunque c'è un modo per far defluire l'acqua in maniera coerente. È stata anche un'opera abbastanza impegnativa di ingegnerizzazione, scavare questo tunnel, hanno trovato una falda acquifera che hanno dovuto superare e quindi è stato necessario congelare la falda acquifera, trapanare il ghiaccio, mettere il cemento e ancora comunque si hanno delle infiltrazioni nonostante le grandi larghezze delle mura. Io inizierei a prepararmi, voi potete continuare, inizierei a scendere giù, potete parlare ad esempio di come quello che andremo a vedere saranno quelli che vengono chiamati RAC, ossia il sistema di elettronica per l'acquisizione dati e live voltage, quindi magari potreste dire velocemente quali sono i step delle analisi, così che poi quando vado giù vi faccio vedere qua dove si fa il trigger di primo livello, i ricavi vengono portati su e così via. Va bene allora salutiamo Simone. Ci vediamo dopo. Ciao a dopo. Ciao a arrivino in cino. Va bene allora adesso beh innanzitutto Simone ci si disconnetterà abbiamo scoperto poco fa per un fatto interessante si tratta semplicemente di un problema di connessione perché sottoprende la rete c'è la rete svizzera invece sopra quella francese è divertente non si tratta di dover scendere cento metri ma è un problema banale di attraversamento di confini. Giulia scusi interrompo una domanda nella stanza ho piegato un po' a trovare il microfono. Ok ah è una bella domanda siete pronte? Non abbiamo fatto. Sto creando un po' di spamming. Ok. Manda è la seguente com'è fare un dottorato e lo consigliereste? Rispondiamo entrambe. Premesso che abbiamo iniziato il dottorato qua da due mesi quindi forse siamo ancora ottimiste. Personalmente mi sto divertendo non è facile ci sono un sacco di cose da fare però è interessante si impara moltissimo quindi io lo consiglierei. E cioè diciamo Aurora ha parlato un po' anche del dottorato in generale. Dottorato al CER nello specifico è molto bello molto interessante perché è un ambiente tanto dinamico c'è una marea di gente che è tendenzialmente la massima esperta una grande esperta di quello che sta facendo e si è circondati tutto il tempo da queste persone e così come in università sono tutti molto disponibili a spiegare insegnare coinvolgere quindi anche diciamo fin dall'inizio vieni coinvolto nelle attività e chiaramente ci vuole un po' a imparare a prendere la mano e a riuscire a dare un contributo sensato però è un ambiente in cui è predisposto per insegnare molto permette di fare molte esperienze e che noi siamo molto felici ok ciao altre domande intanto io mi avvicino all'entrata verso il tunnel utilizzando il mio dosimetro per la misura delle radiazioni assorbite per questioni di sicurezza dopo dovremmo rimisurarlo penso che ci sia la scansione della retina se vedete adesso simone fermo e guarda a perfetto ti sentiamo perché ovviamente solo alcune persone sono autorizzate a scendere cioè non è ad accesso aperto e c'è il numero limitato di persone che possono trovarsi in caverna allo stesso tempo e poi uno dei punti fondamentali credo che sia c'è una grande sorveglianza per sapere sempre quante persone ci sono giù in maniera che se dovesse succedere qualcosa si sa se c'è dentro qualcuno se deve essere evacuata o meno comunque c'è un posto molto sicuro e molto controllato e se simone vuoi esatto diciamo non tutti possono accedere bisogna prima fare dei corsi per diciamo di sicurezza perché sono dei protocolli molto stretti perché per evitare che in caso d'incidente uno non sappia cosa fare questo qua siamo di fronte al all'ascensore di che ci porterà giù come vedete siamo in fase di riparazioni sistemazioni di aggiustamento prima è la presa dati che in genere avviene verso pasqua abbiamo le prime collisioni di lhc il giorno di pasqua ormai una diciamo una costante del moto e quindi ci vorrà un po di tempo prima dobbiamo dobbiamo farlo risalire vedete sta arrivando vedete come va veloce i metri qua potete vedere i metri sotto il suolo mancano 20 metri d'arrivo vedete che è molto più veloce dei dei classici ascensori che potete trovare nei vostri edifici sta ritornando ecco abbiamo chiamato e adesso entriamo tutti insieme fra poco fra poco scendiamo almeno due fra poco come dicevamo prima si interromperà la la trasmissione e continuano quindi giulia e aurora questo qui è un ascensore speciale abbiamo aperto simone come stava dicendo simone c'è una domanda scusami posso dire prego c'è una differenza tra collisionatore e acceleratore la differenza tra collisionatore e acceleratore sì ok allora ci sono sono due stage parti diverse prima abbiamo l'accelerazione e poi abbiamo la collisione quindi nell'anello c'è un punto in cui le particelle vengono accelerate nell'anello di l'hc prima c'è tutta la fase di pre accelerazione di cui ha parlato giulia all'interno dell'anello ogni volta che le particelle fanno un giro vengono riaccelerate poi ci sono a lhc quattro punti in cui le particelle vengono fatte collidere come facciamo con dei magneti deviamo leggermente i fasci particelle cariche in un campo magnetico vengono deviate quindi deviamo i fasci in modo tale da farli scontrare quando i due fasci si scontrano abbiamo più o meno 10 alla 11 protoni per pacchetto per bunch e di questi attualmente più o meno 60 in media si scontrano ed hanno origine alle collisioni che poi noi vediamo in CMS e negli altri esperimenti intanto Simone è arrivato su siamo arrivati a meno 2 questo come dicevo prima che si interrompesse la linea è un ascensore speciale perché l'area all'interno è pressurizzata e quindi in caso di incendio il fumo non entra è uno dei rari casi in cui appunto in caso di incendio bisogna utilizzare questo ascensore per ritornare su ci sono anche delle scale di emergenza per salire però come vedete al momento siamo a meno 82 metri sotto il livello del mare sotto terra scusatemi adesso sta risalendo l'ascensore perché sono persone che continuano ad andare su e giù però le strade quindi le scale in caso di emergenza sono sconsigliate perché chiaramente sono parecchi metri da fare e in caso qualcuno si sentisse male anche per i pompieri non è facile intervenire qua si pensa soprattutto alla sicurezza come dicevo prima di entrare quindi per quello per diventare guide per adentrarsi a queste parti bisogna seguire una serie di corsi ed essere preparati adesso stiamo andando verso quella che viene chiamata la caverna dei servizi dove c'è l'elettronica adesso per la testa scusami ti fai vedere sopra la testa qua il tunnel questo vedere si si vedete queste linee qua colorate che salgono sono soltanto per figura in realtà e rappresentano i dati che vengono pressi da cms qua 100 metri sotto terra e portati in alto per l'elaborazione e l'analisi e l'analisi ma sono soltanto veramente di figura non non sono veri dati e diciamo qui vedete anche le scale le scale di 100 metri sono un disastro si 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 c'è stato c'è successo e in qualche caso per cui per problemi tecnici l'ascensore si era rotto e insomma si è avuto parecchio tempo alle persone che erano qua per ritornare su perché appunto ogni 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 due piani si devono fermare le persone specialmente un po più anziane non sono salite agevolmente diciamo ecco quello che vedete lì sotto riesce a fermare un secondo? certo dimmi la geografia sotterranea è fatta di due caverne la caverna che abbiamo visto prima che è quella dove c'è il rivelatore però come dicevamo giustamente dove ci sono anche tante radiazioni e poi c'è una caverna a fianco che è quella dove Simone sta per entrare che contiene tutta o gran parte perlomeno dell'elettronica che serve per far funzionare il rivelatore e acquisire i dati le due caverne sono separate da 5 no da 6 mezzi di cemento armato che serve proteggere dalle radiazioni e tutti i fili passano attraverso dei canali in diagonale lì sotto si vede uno degli ingressi alla caverna sperimentale che adesso non ci stanno mostrando però questo qua in alto vuoi dire? questo qua? no voglio vedere sotto terra sotto terra? dal vivo? vuoi andare? no in quadra sotto lo faccio vedere prima Noemi questo qua qui sotto? esatto ecco quello che vedete lì sotto è effettivamente l'ingresso non so se lo scorgiate bene ok è l'ingresso della caverna sperimentale e la cosa interessante è che adesso è aperto per poter spostare le cose ad esempio con i muletti meccanici no? però poi quando parte la presa dati da lì arriverebbero radiazioni da una caverna all'altra quindi c'è un muro eccoci qua si vede benissimo guardate c'è un muro che si può spostare che non si vede adesso che però scivola su quei due binari metallici neri su uno dei due sta camminando un tizio con il metto bianco adesso che sono unti di grasso e questo muro scivola su quei binari appoggiato a cuscina ed aerea compressa a 100 atmosfere 110 Andrea non lo sai non ti ricordi 10 atmosfere facciamo per non essere esagerati 10 atmosfere che servono per poterlo spingere e chiudere quella porta è importante un muro perché il muro ferma le radiazioni ferma le radiazioni perché è fatto di cemento e ferma le radiazioni perché è fatto di cemento perché il cemento è un atomo leggero un atomo leggero assorbe molta quantità di moto quando viene colpito dai protoni scusa Simone mi sembra un po' interessante no no è fatto benissimo anzi interrompetemi pure se vedete qualcosa che può essere di aiuto agli studenti io prima di entrare volevo far vedere questa è la esattamente la caverna quella di cui ha parlato adesso Pietro in cui stanno vedete alcune persone stanno lavorando ovviamente qua non c'era ancora CMS che è stato calato da questo tunnel che ci porta su in superficie e vedete di qua questa era invece l'area in cui veniva assemblato CMS e poi spostato e calato lungo questo tunnel in fette come se fossero state tante piccole monetine potete vedere qua ad esempio l'argano con cui una fetta viene appunto calata e poi riassemblato in basso perché chiaramente date le dimensioni era difficile portarlo giù in ascensore tutto insieme e qua potete vedere le varie fasi in cui il detector è stato assemblato come dicevo ormai il detector è chiuso e quindi noi vedremo soltanto la parte esterna se non ci sono domande su su queste immagini o su quest'area allora io andrei sulla sulla quella dei servizi una domanda aspetta un secondo vai 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 scusa metto quante energie utilizza il cern come viene prodotta come viene prodotta viene prodotta principalmente il sito dalla 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 Francia e è attaccato alla rete di corrente come come tutti gli altri non ha una produzione sua di di corrente in realtà ci sono dei progetti per il futuro acceleratore fcc per renderlo più sostenibile si pensa diciamo ancora ha soltanto un'idea di costruire dei dei mini reattori nucleari accanto all'acceleratore per produrre l'energia necessaria ma al momento questo non avviene e noi prendiamo la corrente dalla rete elettrica dello Stato e in quante infatti in inverno c'è uno shutdown di diversi mesi per diminuire il picco di corrente e per far sì che non ci sia una un sovrappollamento di richiesta diciamo di corrente nella regione e appunto è la che ci riprenderà è chiuso da fine novembre metà dicembre fino a marzo inoltrato durante il periodo di maggior utilizzo della corrente elettrica nella nella regione il consumo è quello di una piccola città diciamo praticamente sì 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 e ovviamente va per una parte consumo serve per mantenere i magneti superconduttori vicino ai tre kelvin e un'altra parte di energia va proprio per immagazzinare energia necessaria per far circolare i protoni senza contare ovviamente tutta la parte di elettronica del detector e poi degli uffici dei computer delle schede di acquisizione quindi è veramente un sistema molto molto complesso e richiede abbastanza energia altre domande no allora venite qua per farvi vedere una cosa curiosa tra virgolette in caso di incendio e che non si possa domare in altro modo sono sistemi di sicurezza in questo caso vedete delle pompe di acqua che riempono completamente di una schiuma speciale tutta la caverna e questo è l'unico modo per spengere un incendio che si stesse sprigionare all'interno del detector è stato è stato una sola volta quando ovviamente il detector non era lì per verificare che funzionasse bene e si sperano non doverlo mai utilizzare perché vorrebbe dire buttare via principalmente il detector quindi è veramente l'ultima opzione da utilizzare però qua al CERN devono pensare a tutto per la sicurezza delle persone che ci lavorano e delle persone che vivono vicino anche al sito e quindi hanno considerato anche questa estrema precauzione adesso venite ci avviciniamo verso Iraq qua potete sentire questo rumore in sottofondo sono le ventole dei vari sistemi che girano e in in blu questi sono quelli che vanno chiamati power supply ossia quelli che gestiscono la tensione che serve per alimentare tutti i sistemi di CMS sono ovviamente laggiù in fondo vedete tutta una serie di estintori speciali a utilizzare in caso di pericolo e viene tutto comandato in caso di problemi si possono spengere con delle chiavi all'occorrenza da questa parte invece c'è quello che si chiama il DSS detector safety system ossia per evitare che a causa di errori umani o di problemi che nascano e di difficile comprensione dagli operatori che sono su nella control room c'è tutto un sistema elettronico che monitora costantemente il detector e che manda degli allarmi e blocca anche il sistema in determinate occasioni per evitare che si producano dei danni al detector e alle persone che ci lavorano e questo viene chiamato in genere detector safety system ossia il sistema di sicurezza del detector qua ci sono invece tutta l'elettronica di lettura dei vari sottodetector per cui vedete fed sta per front end electronic quindi tutti i vari canali che vengono letti con cavi ottici presi dal dal detector e portati su queste schede e poi tutte queste schede mandano le loro informazioni ad altre schede che sono nel rack successivo in cui si fa l'analisi dei dati al primo livello di selezione degli eventi che è il livello di trigger la quantità di dati che si raccolgono c'è messa enorme considerate che l'hc genera un fascio come dicevamo in pacchettini tale per cui lo scontro di un pacchettino è seguito da quello successivo dopo 25 nanosecondi quindi ogni 25 nanosecondi c'è una collisione esatto e 40 milioni di collisione al secondo ogni evento occupa qualche megabyte quindi vuol dire che se noi volessimo salvare tutti questi eventi su disco salveremmo 40 milioni facciamo per 5 megabyte quindi 40 milioni di megabyte al secondo che chiaramente un volume ingestibile da trasportare ingestibile da salvare e anche ingestibile da rianalizzare successivamente e oltre a questo ci sta il fatto che non ci interessano tutti questi eventi perché la maggior parte sono collisioni poco interessanti esatto esatto proprio quello cioè non è neanche necessario salvare tutte perché poi avete che nella stragrande maggioranza dei casi quando i protoni si scontrano si fanno ciao ciao e si passano attraverso oppure interagiscono poco e producono una miriade di particelle a bassissima energia che non sono estremamente interessanti e oltre a questo se ne producono talmente tante che basta salvarne ad esempio una ogni 10 mila di questi eventi mentre invece gli eventi che ci interessano a noi sono in genere eventi si chiamano più duri ossia in cui le particelle prodotte liberano maggiore energia rispetto a quella media delle altre collisioni e sono identificate a delle segnature ben precise come particelle che possono essere elettroni muoni fotoni o adroni non so se ne hanno parlato velocemente nel nel talk introduttivo che attraversano il detector e lasciano determinati segnali quei segnali come dicevo prima vengono raccolti dalle schede che vi ho fatto vedere prima e qua vengono analizzati in questo trigger data acquisition system dove ci sono una serie di schede FPGA principalmente che voi non vedete perché sono diciamo all'interno di questi rack di elettronica vedete tutto il cablaggio e le connessioni fra una scheda e tutti tutti i low voltage tutto l'apparato di di tensione di questa elettronica e queste cosa vanno queste schede speciali analizzano i dati che vengono dai quindi singoli segnali elettronici nelle varie parti del detector vengono ricostruiti e viene associato una il passaggio di una particella e la misura della sua energia opposizione a seconda del detector che ha emesso quel segnale mettono insieme una domanda scusami ah bellissima domanda secondo me possiamo anche passare a Aurora Giulia la domanda è la seguente quando l'HC è attivo i protoni si attraversano e collinuano costantemente durante l'acquisizione dei dati allora vai 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 Aurora vai come abbiamo detto prima il fascio non è continuo ma sono dei pacchetti e i pacchetti si scontrano ogni 25 annosecondi questi pacchetti vengono messi all'interno di lHC e in seguito alle collisioni poi i protoni si perdono quindi dopo un certo numero di ore più o meno 8 ore non ci sono più abbastanza protoni per avere un numero di collisioni sufficiente che ci interessa quindi è necessario immettere altri pacchetti nuovi diciamo di protoni e questa cosa va avanti in ciclo continuo per controllare che tutto funzioni quando l'HC è acceso infatti vengono fatti i turni sul H24 24 ore al giorno 7 giorni su 7 quindi a meno che non si rompano delle cose come purtroppo succede spesso da quando l'HC si accende ci sono sempre protoni che collidano diciamo i protoni all'interno di ogni pacchetto sono circa 100 miliardi 10 alla 11 e man mano quindi immaginatevi ci sono circa 2500 pacchetti che attraversano l'HC e come dicevano si scontrano nei quattro esperimenti ogni 25 secondi a causa di queste interazioni questi pacchetti pian pianino si bruciano una legge che è quasi esponenziale quindi un decadimento e a un certo punto non ci sono abbastanza protoni come dicevo ora il fascio viene dampato sia viene sparato contro un muro che assorbe tutta l'energia e ricomincia tutto il ciclo di refilling quindi di riempimento dei pacchetti di LHC e di nuovo le collisioni infatti diciamo per il livello 1 che è il primo stage di analisi e di filtro degli eventi c'è quello che viene chiamato una latenza di 4 microsecondi cosa vuol dire? Vuol dire che una volta che voi registrate un evento quindi un pacchetto di protoni che si scontra contro un altro pacchetto avete tutta una serie di memorie che tengono in memoria tutto l'evento e avete 4 microsecondi quindi 10 alla meno 6 secondi per decidere se volete tenere quell'evento oppure no se non lo tenete l'evento sarà perso per sempre se lo volete tenere allora viene passato questo evento a uno stage successivo che è invece che il livello 1 i trigger l'high level trigger cioè trigger di alto livello che è una farm di CPU e GPU che è qualche metro qua sopra si trova al secondo piano sopra al control room dove arrivano i dati e vengono rielaborati con una potenza di calcolo molto maggiore per fare una seconda selezione molto più raffinata per darvi un'idea abbiamo una selezione quindi il rate il numero di parti di interazioni al secondo come diciamo prima era 40 milioni dopo il livello 1 arriviamo a 100.000 e se ne salvano sul disco soltanto qualche migliaio Simone abbiamo un'altra domanda vai vai intanto io mi avvicino verso come fanno le parti di accelerazione ad accelerare i pacchetti di protoni come avviene tramite differenze di voltaggio campi magnetici sì allora sono campi elettrici e magnetici e i pacchetti di protoni vengono accelerati tramite una radiofrequenza ok quindi in un certo senso surfano su un'onda che li accelera costantemente ovviamente una parcella accelerata in questa maniera andrebbe dritta mentre invece dobbiamo farle curvare la circonferenza di 27 chilometri in realtà non è un cerchio perfetto ma sono una serie di stazioni lineari e poi alcune curve che lo fanno leggermente girare quindi sono dei campi magnetici che fanno ruotare quindi le particelle una volta accelerate per farle curvare e poi ci sono dei altri campi magnetici generati da dei quadrupoli che le focalizzano di nuovo perché ovviamente interazione delle particelle con i vari campi magnetici ed elettrici per essere accelerate e diciamo le spostano dal baricentro del fascio e questo può avere un impatto poi sulla loro traiettoria e quindi è necessario ricorreggerli spesso durante il loro tragitto per farle rifocalizzare e rimanere nel baricentro corretto una radiofrequenza è un volume di spazio all'interno di un conduttore quindi pensate un cilindro di metallo va bene all'interno di questo cilindro di metallo si può instaurare un campo elettromagnetico come se fosse una corda di violino in maniera simile a come funzionano le onde elettromagnetiche delle radio cioè le radio trasmettono le onde elettromagnetiche che vuol dire che ci sono delle antenne che sono in grado di generare un'onda elettromagnetica che è un trasferimento di energia ecco se questa cosa invece di avvenire nello spazio aperto avviene in un contenitore chiuso allora l'onda elettromagnetica è vincolata a stare all'interno di questo contenitore come le corde degli strumenti musicali allora la prima cosa che si fa è instaurare questa onda elettromagnetica e poi si può accordare la cavità risonante in modo che l'onda elettromagnetica vibri a una determinata frequenza se la frequenza è la stessa del passaggio delle particelle allora le particelle vedono sempre la parte giusta dell'onda elettromagnetica che ci interessa ad esempio vedono sempre il massimo dell'onda elettromagnetica e quindi l'effetto che si ha sulla particella è che loro vedano di fronte a sé una sorta di elettrodo virtuale come se davanti a loro ci fosse un elettrodo di carica opposta che le attira nel sistema di riferimento giusto e quindi effettivamente la metafora del surf vi fa vedere come la particella veda l'onda elettromagnetica è instaurata in questa cavità cioè un buco, una scatola vuota di conduttore, una cavità dove viene instaurata un'onda con una certa frequenza ed è un'onda di tipo elettromagnetico quindi tipo radio perciò questi acceleratori si chiamano cavità radiofrequenza c'è un'altra domanda intanto vi faccio vedere velocemente qua sono tutti dispositivi di sicurezza come dicevo in caso di emergenza qua avete qualcosa che può aiutare e soccorrere le persone in caso di bisogno dei walkie talkie per parlare con la superficie se necessario e anche un telefono che è in diretto contatto con i pompieri quindi in caso di necessità potete aprire e i pompieri vi sentono e vi dicono cosa fare di stare calmo in genere e poi possono raggiungerli nel più breve tempo possibile arriva le prossime due domande buongiorno volevo chiederle come vengono impacchettate le particelle allora come vengono in modo simile a come vengono accelerate se vi ricordate quello che vi ha fatto vedere prima Giulia sulle slide LHC è in realtà un complesso venite di qua potete vedere c'è un'immagine simile a quella che faceva vedere prima Giulia questo è di nuovo l'anello di LHC e vedete degli altri acceleratori più piccoli le SPS, il PS, booster e è tutta la catena di accelerazione delle particelle di impacchettamento quindi c'è quello che viene chiamato ci sono degli storage ring ossia degli anelli in cui i protoni vengono accumulati e di nuovo con campi elettrici e magnetici e radiofrequenza vengono impacchettati un po' alla volta e poi questi pacchetti vengono passati tramite l'SPS a LHC e una volta che LHC è pieno quindi tutti i 2400-2500 pacchetti si trovano allora si inizia ad accelerarli per portarli all'accelerazione massima alla velocità massima e all'energia massica in cui poi dopo collidano quindi la formazione dei pacchetti poi è quello che stiamo mostrando scusate, sono interrotto Simone prego, prego, vai, vai ho fatto il disegno alla lavagna che è il campo elettrico che significa accelera rispetto a proseguire velocità costante vedete qua ad esempio c'è uno di questi dopo che hanno visto questo campo elettrico i protoni si sono raggiuppati in un pacchetto in questa cosa avete diversi pacchetti e sono tutti diversi pacchetti che viaggiano vai Simone scusa perché non sono nel microfono è che io non vi sento quindi sento solo te non so se sta parlando Andrea cosa scusate se vi interrompo questa dicevo è la foto di uno di questi pre-iniettori in questo caso il LINAC2 dove c'è una sorgente di protoni che tramite questo acceleratore lineare viene preparata appunto per poi per il tunnel più grande che è questo qua in questa foto di LHC dove vedete tutti i vari magneti che come vedete sono dei tratti lineari a seconda che siano dipoli o quadrupoli curvano oppure squizzano le particelle all'interno del fascio e qua vedete un attimo solo così finisco qua vedete i fasci di particelle ovviamente è un disegno non è possibile vederli e questi sono appunto i dipoli di LHC nel quale le particelle viaggiano curvano e arrivano poi ai punti di interazione ecco Vat fate la domanda comune o sono due domande? no sono due domande separate in base a cosa il computer quindi la serie di cpu e gpu di cui ci accendava prima sceglie di salvare le informazioni di una collisione? ottima domanda allora dipende nel senso che noi siamo guidati per gran parte le nostre ricerche da degli aspetti teorici che ci indicano quali sono le topologie degli eventi ossia cosa aspettarci in un evento di interesse ad esempio nel caso della produzione del bosone di Higgs noi sapevamo che dovevamo cercare eventi in cui c'erano due fotoni di alta energia oppure quattro leptoni leptoni sono gli elettroni o i loro cugini più pesanti i muoni ok o altre particelle quindi sapevamo cosa cercare e disegnavamo i programmi per la selezione in base alla presenza di queste particelle ok scusami se ti interrompo posso? vai prego abbiamo proiettato l'immagine di quello che ci sta dicendo Simone cioè quello che vedete lo chiamiamo event display cioè rappresenta esattamente quello che sta dicendo Simone cioè come nel rivelatore si ricostruiscono le varie particelle per esempio penso vediate il mio mouse vedete qua a destra che si sono illuminate una serie di rettangoli rossi questi sono le camere a muoni cioè i rivelatori che vedono nello specifico le particelle che sono muoni e quindi sostanzialmente quello che noi facciamo è dire se si sono illuminate queste camere avrò questa riga rossa che rappresenta la traiettoria del muone e lo stesso qua sotto quindi il trigger come vi diceva Simone adesso ha per esempio due informazioni di topologia cioè dice il mio evento aveva almeno due muoni dopodiché vediamo qui la riga verde la colonnina verde è un deposito nel calorimetro elettromagnetico che vuol dire un fotone un elettrone oppure insomma energia legata a fotoni ed elettroni quindi si dice ok ho due muoni e poi inizio ad avere almeno un per esempio elettrone e così via in questo modo scelgo se tener l'evento o no tipo Simone citava forse l'X in quattro muoni se io fisico sto cercando l'X in quattro muoni dirò al mio trigger cerca almeno quattro muoni o quattro oggetti che sembrino dei muoni e poi via via si va a scremare chiaramente all'inizio si hanno solo dei dati che sono un po' approssimativi sono delle ricostruzioni ridotte e pian piano di step in step si affina la selezione poi in realtà Aurora è più esperta di me sul trigger per cui si vuole aggiungere qualcosa sì poi quello che volevo dire velocemente ovviamente noi però non ci possiamo basare soltanto su quello che ci dice a teoria perché i teorici sono bravi ma ignorano un sacco di cose ci sono delle possibili produzioni di eventi che non sono magari ancora previsti dalla teoria che abbiamo a disposizione e sarebbe un peccato se noi ci basassimo solo su quello che sappiamo già per cercare questi eventi quindi tentiamo anche di creare trigger speciali che che possano selezionare gli eventi in una maniera più generica possibile ok quindi ad esempio invece che selezionare trigger con quattro muoni vediamo di organizzare la selezione per chiamarle magari uno con un'energia un po' più elevata oltre a quello con quattro elettroni tutti e quattro con quattro muoni scusatemi con elettroni un po' più basso e qua è anche dove negli ultimi anni ci è venuto in aiuto il machine learning quindi l'intelligenza artificiale perché la nuova frontiera che ha CMS al momento della fisica di alta energia è di produrre dei trigger quindi le selezioni basate sull'intelligenza artificiale che riescano a selezionare eventi strani che non ci aspetteremo dalla fisica che sappiamo in questo momento e quindi seleziona queste topologie come si chiamano di eventi non attese per poi studiarle in offline per essere sicuri che non perdiamo nessun possibile candidato di nuova fisica scusate scusa Aurora se ti ho interrotto c'è un'altra domanda qui vai vai intanto io mi avvicino alla ma è possibile che i fasci di protoni vengano deviati contro le pareti da forze esterne beh allora forze esterne no quello che che può essere è che il fascio come vi hai detto si perda ossia come dicevo prima ogni volta che il fascio attraversa una parte di LHC viene deviato accelerato i protoni al suo interno si possono distogliere la traiettoria ottimale e ogni tanto può succedere che questi protoni non riescano a rimettersi sul cammino ottimale e quindi il fascio diventa instabile non riesce più accelerarsi e si perde quindi non c'è tanto il problema che diciamo esca e vada come un fascio di particelle contro la parete però quello che può accadere in realtà siccome nei punti di interazione i fasci vanno molto vicini al detector ICMS e questi fasci potrebbero arrivare in momento di interazione se non ben focalizzati se non stabili come si dice dentro il detector ICMS quando il detector non è pronto a riceverli e allora ci sono dei sistemi dei meccanismi elettronici ed elettrici che impediscono ad alcune parti del detector di accendersi se non siamo sicuri che i fasci siano stabili ok e quindi sia sicuro per loro farli interagire in ICMS e leggere i segnali che ne derivano la questione delle forze esterne interessante poi perché il campo magnetico all'interno dei magneti che curvano il fascio è dell'ordine di 8 tesla ora un tesla è l'unità di misura del sistema internazionale del campo magnetico e sono 10.000 gauss un gauss è l'unità di misura del campo magnetico che si utilizza tipicamente per quello terrestre perché il campo magnetico terrestre è mezzo gauss quindi il campo magnetico all'interno dei dipoli superconduttori dell'HCE 20.000 volte il campo magnetico terrestre quindi una possibile sorgente di forza esterna è il campo magnetico terrestre però essendo così debole rispetto a quello dei dipoli che utilizziamo per curare i fasci non è rilevante però questo fa fa legame con quello che aveva detto quello che aveva detto prima Simone riguardo alla misura delle perturbazioni dei fasci perché ad esempio il passaggio di un treno sulla superficie un TGV che va da Ginevra a Parigi ora arriva da Parigi a Ginevra è un circuito chiuso che viaggia un treno è un circuito chiuso che viaggia a 300 km all'ora e un circuito chiuso che viaggia induce un segnale elettromagnetico un segnale elettromagnetico è un campo elettromagnetico che può perturbare la traiettoria dei fasci allora quando si fanno soprattutto misure molto precise e quando si utilizzano fasci molto precisi la posizione esatta del fascio la posizione micrometrica che interessa a noi per far collidere i fasci è sensibile anche a questi effetti non al punto da far sbattere i fasci contro le pareti ma magari al punto da fare in modo che i due fasci non si incontrino esattamente come vorremmo quindi la cosa interessante è innanzitutto che l'acceleratore a 100 metri sotto terra è fatto con una precisione tale da essere in grado di osservare questa cosa volevo dirne due un'altra cosa interessante è che l'acceleratore stesso deve essere costruito in maniera tale da poter correggere per questi effetti cioè poter fare in modo che quando arriva il treno lo sappiamo e quindi aggiusta un po' la tradittoria deve essere anche in grado di correggere per le maree del lago dovute alle lune della luna cioè quando la luna è sopra il lago di Ginevra lo attira quindi il lago di Ginevra toglie peso alla crosta terrestre la crosta terrestre si rilassa l'acceleratore è nella crosta terrestre quindi cambia un po' forma allo stesso modo quando la luna è invece a 90 gradi rispetto al lago tutta la gravità del lago pesa sulla crosta terrestre quindi lei si piega un po' e quindi l'acceleratore dell'HC deve essere progettato in modo tale da permettere da permettere di poter correggere per tutti questi effetti ai quali effettivamente siamo sensibili c'è un'altra domanda? Ho già risposto magia c'è un'altra domanda là però non so se perché sennò non può entrare nella caverna la regia ci invita a entrare in caverna ok questo momento Simone sta entrando nella parte bella tenete la domanda fatevi le domande così dopo qua siamo dentro la caverna appunto di cui parlavamo prima questo è lo shielding del fascio che vedete viaggia all'interno di questa struttura arancione dentro il cuore di CMS di cui vedete questo tappo rosso che è l'ultima parte di di ferro che racchiude le camere per i muoni ok adesso come dicevo prima è tutto chiuso e ci sono i tecnici che stanno montando alcuni elementi dello shield qua c'è altra elettronica di lettura del detector vedete lì potete intravedere tutti i cavi che vengono fuori dal detector quindi questi cavi sia portano la corrente elettrica necessaria per l'elettronica e per i vari rivelatori si alleggono quindi portano fuori i dati e i segnali elettronici degli stessi rivelatori a queste centraline che poi smistano i dati e le mandano nell'altra caverna qua vedete di nuovo sentite il rumore delle ventole per il raffreddamento fortunatamente no ah no voi no queste sono le centraline avete già raccontato pietro cosa c'è dentro il detector noi è chiuso adesso come diceva simone però noi abbiamo la figura che ce lo rappresenta dall'interno abbiamo parlato di tracciatore caloimetri e solenoide molto velocemente ok se volete l'overview possiamo farvelo qua sopra aspetta volevo farvi vedere non so se ci riesco qua sopra vedete quella zona un po' più chiara là in cima quella è il buco di cui parlavamo prima la cui CMS è stato calato in in fettine in piccole monettine poi riassemblato adesso possiamo scendere giù a livello terra dove diciamo è appoggiato CMS mentre Simone scende un fatto interessante avete visto che c'è il buco che è sopra una delle due estremità del cilindro di CMS ce n'è uno solo cioè venivano calate le fettine da lì e poi orizzontalmente vengono spostate in modo da assemblare il rivelatore quindi vuol dire che scusate posso interrompere un secondo sì qui Simone sta camminando sotto l'ingresso della caverna che abbiamo visto prima quindi se guardiamo quando scende poi si potrà voltare verso destra vedremo l'ingresso che abbiamo visto precedentemente della caverna di servizio guarda qua questo è l'ingresso di prima no? e vedete in fondo il muro scorrevole che serve per tappare il buco poi quindi quella parete in fondo che vedete che si muove sul carrello giallo quella che serve per chiudere questo buco quando inizia l'acquisizione dei dati scusate sono interrotti ah tranquillo quello non è l'unico muro che scorre buongiorno ciao c'è anche il buco di cui sta parlando Giulia anche quello ha un tappo diciamo che è il pavimento che adesso avete visto aperto ma poi quando ci sono le collisioni viene fatto scorrere viene chiuso per evitare che la radiazione arrivi nel superficie e qua vedete tutti i cavi di servizio che passano e vanno all'interno si inseriscono qua quindi diciamo la geometria la meccanica del rivelatore è pensata anche per degli spazi appositi da cui questi sistemi di cavi entrano e raggiungono tutti i punti dell'esperimento come dicevamo queste piedini ad aria compressa sì esatto esatto stavo giusto per arrivarci come dicevo sono stati calati e poi riastemblati e come si sposta un oggetto di queste dimensioni con questi piedini ad aria compressa per cui il viene diciamo mandata aria ad altissima pressione qua sotto lo solleva lo tiene sollevato e c'è un sistema non so se l'arcano è da questa parte o dall'altra qua dietro no è di là è qua è qua scusatemi non lo vedevo quello che vedete perché hanno spostato questo qui è un sistema un arcano brevemente questi cavi vengono attaccati al rivelatore e poi tirandoli si sposta il rivelatore piano piano e questo rivelatore viene sollevato dalla pressione nell'aria compressa ok simone ci fai vedere il calorimitro forward del suo garage perché qualcuno ci aveva chiesto se i rivelatori si danneggino per le radiazioni allora il il rivelatore forward nel suo garage no questo qui è un'altra cosa questo quello sopra i supporti gialli questo qua dici sì 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 allora da qua non so se si riesce a vedere bene guardatelo comunque questo pezzo che vedete è il rivelatore più vicino alla linea del fascio quindi è quello che viene colpito di più delle radiazioni e diventa radioattivo al punto che durante le pause va messo in un garage perché protege perché la gente non si è esposta alla sua radiazione il garage è dietro alla telecamera adesso aperto questo altro questo qua esatto quindi quando quando il rivelatore è spento quella quel pezzo che vedete là sopra viene riposto qua dentro in modo che sia chiuso e le radiazioni non investano le persone che lavorano al di fuori quindi mi ero confuso avevo capito ci fai vedere il rivelatore nel suo garage non è nel garage sono d'accordo sì ok ok effettivamente il problema della radioattività c'è addirittura mentre l'HC prende dati ogni tanto magari per 1-2 ore noi vogliamo andare a sostituire qualcosa la prima cosa che si fa per poter entrare in caverna è mandare una pattuglia di esplorazione che sono persone che sono deputate a questo ruolo che va a misurare la radiazione all'interno della caverna per verificare che effettivamente si possa entrare chiaramente non è che questi polmoni per la radiazione vai Simone no non la volevo dire che non è solo la radioattività che rimane nella zona ma anche il ferro è permanentemente magnetizzato come potete vedere da queste graffette perché per curvare le particelle non all'interno dell'HC ma all'interno dell'esperimento c'è comunque un solenoide da lì il nome CMS Compact Neon Solenoid di 3,8 Tesla che serve per far curvare le particelle cariche farle passare attraverso i rivelatori che ne misurano la posizione si ricostruisce la traiettoria e da lì la velocità delle particelle la struttura in ferro funziona da da Ritter New York cioè le mie di campo si richiudono su queste strutture di ferro e anche se adesso non c'è tutto spento quindi anche il campo magnetico è spento il ferro rimane comunque magnetizzato a vita come potete vedere e quando diciamo il campo magnetico invece è acceso diciamo ci sono nelle altre prescrizioni da prendere per poter scendere questo vuol dire che tutti gli apparecchi che vengono messi sotto terra devono essere non magnetizzabili ad esempio gli estintori non possono essere magnetizzabili altrimenti appena si accende il campo magnetico questi partono e si attaccano al rivelatore tutte le chiavi inglesi che vengono utilizzate non possono essere magnetizzabili altrimenti si rimane attaccati all'apparecchio di metallo senza poter si muovere quindi c'è tutta una serie di cose inaspettate di cui bisogna tenere conto quando si opera in queste circostanze sì non solo quegli attrezzi ma l'elettronica stessa i cavi dell'esperimento sono fatti in maniera tale che il campo magnetico non li danneggi e non ne modifichi le capacità e le caratteristiche intanto vedete l'altro argano che serve per tirare fuori il pezzo ovviamente ce ne sono due per mantenerlo in equilibrio domande qua stiamo passando sotto vedete ne sono due le cose che osserviamo c'è il rivelatore ideale che abbiamo descritto prima con il rivelatore al silicio i calorimetri i cristalli scintillanti eccetera però c'è anche il rivelatore reale cioè tutte queste cose devono stare montate insieme funzionare effettivamente funzionare effettivamente vuol dire tantissime cose vuol dire che i rivelatore buoni hanno una differenza di potenziale al loro interno di 4000 volt il campo magnetico del solenoide superconduttore è di 3,8 tesla vi ricordate tutta la questione di quanto sia il tesla per indurre un campo magnetico di 3,8 tesla ci vuole tantissima corrente quindi la corrente mi è fatta fluire nel solenoide temperature bassissime dell'elio liquido meno 273 gradi Kelvin gradi Celsius scusate sto parlando la bestialità ho detto la bestialità gradi Celsius che significa che vicino al rivelatore a temperatura ambiente c'è un contenitore che ha 270 gradi di differenza di temperatura tutti i pezzi meccanici che avete visto sono allineati alla precisione del micron per far funzionare il rivelatore a muoni ci vuole un gas speciale che va fatto fluire all'interno dei rivelatori il calorimetro elettromagnetico è molto sensibile alla temperatura quindi va tenuto a 18 gradi più o meno 0,01 il tracciatore va tenuto a meno 10 gradi con energia carbonica perché così il rumore elettronico è ridotto il tubo vuoto è molto sottile è fatto in beriglio perché si tratta di un metallo che influisce poco il passaggio delle particelle però è abbastanza robusto meccanicamente quindi si tratta di uno sforzo dal punto di vista tecnologico tutt'altro che banale cioè per costruire un rivelatore che sia meccanicamente consistente tantissime tecnologie tantissima ingegneria tantissima chimica è necessaria e questo oltre a portare a noi rivelatore di particelle comportano sviluppo e un miglioramento delle tecnologie notevole anche dal punto di vista sociale c'è una domanda Pietro intanto riniziamo la procedura per risalire tanto diciamo a meno che tu non voglia mostrare qualcos'altro in specifico del rivelatore la domanda che sa per farci nella stessa caverna dato che le particelle nell'acceleratore vanno praticamente alla velocità della luce si vedono spesso immagino anche diciamo effetti relativistici quanto si vede magari la contrazione delle lunghezze non lo so si vede tantissimo gli effetti relativistici in questo caso sono fondamentali innanzitutto bisogna fare i calcoli giusti se facciamo i calcoli sbagliati ci si rompe tutto insomma e poi l'effetto relativistico che si vede tantissimo è che non soltanto i protoni vanno alla velocità della luce ma anche le particelle che escono dalla collisione vanno alla velocità della luce se si ricordano abbiamo detto che tutte le particelle pesanti decadono in particelle più leggere perché la natura è anarchica e lo fanno immediatamente il fatto che le particelle che escano dal punto di collisione abbiano velocità molto alte significa che vivono più a lungo nel sistema di riferimento del laboratorio allora se vivono più a lungo nel sistema di riferimento del laboratorio danno il tempo di osservare lo spazio di viaggio che non è infinitesimo ma diventa qualche millimetro qualche centimetro a seconda del tipo di particelle e questo per noi è importantissimo perché ci permette di distinguere diversi tipi di particelle ad esempio il quark B bottom uno dei quark che abbiamo visto si lega con altri quark e produce dei stati legati delle particelle che si chiamano mesoni come i protoni ma come il quark B dentro e noi siamo in grado di capire quali particelle provengano da mesoni che contengono il quark B guardando alla lunghezza di viaggio si chiama lunghezza di decadimento quanto spazio percorrono prima di disintegrarci e studiare il quark B è fondamentale per la comprensione della simmetria fra materia e antimateria che si osserva in natura di cui magari parliamo più tardi quando è finita la visita virtuale vi faccio vedere le ultime slide ci sono altre domande sì quanto costa mediamente mantenere tutto questo qual è il budget annuale del CERN è un caffè a Milano diciamo un euro e mezzo all'anno per ogni cittadino europeo questo è l'ordine di grandezza il budget annuale del CERN è circa mille miliardi no? è vero? no 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 è un miliardo un miliardo di euro ma che ti ho conto di quante persone ci sono in Europa? in Europa ci sono circa 350 mila persone milioni 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 50 milioni grazie Simone dall'ascensore quindi il budget del CERN è circa un miliardo l'anno è l'equivalente di un aereo militare per capirci la posizione geografica del CERN ragazzi per cortesia c'è una domanda anche là poi la posizione geografica del CERN è stata decisa per qualche motivo particolare perché almeno da quanto parlato in precedenza sembra che il lago e le ferrovie ad alta velocità francesi disturbino comunque abbastanza gli esperimenti perché non è stato deciso di farlo ad esempio in un luogo in un deserto che sarebbe perché non è stato fatto in un deserto è un acceleratore che sta in Europa quindi partiamo dal punto di partenza che il CERN è stato costruito in Europa per tante ragioni per avere un centro di ricerca europeo quando è stato fondato il CERN poi non si pensava necessariamente di fare un anello di 27 chilometri una delle funzioni che ha avuto il CERN è stata anche quella di attrarre tantissimi cervelli in fuga che erano scappati dai fascisti dai nazisti durante la seconda guerra mondiale in America perché venissero riportati in Europa negli Stati Uniti effettivamente quando venivano costruiti acceleratori prima che arrivassero le presidenze scelerate dal punto di vista scientifico di Bush gli acceleratori venivano costruiti in zone abbastanza disabitate desertiche se si deve scegliere un posto in Europa una delle cose importanti è che si tratti di una regione stabile sismicamente questa cosa è molto più preziosa come caratteristica che non ci siano i treni che ci sono più o meno dovunque o che non ci sia un lago vicino e anche ce ne sono molti quindi una delle richieste che è stata posta per la costruzione del CERN è stato che ci fosse un sito geologicamente stabile il fatto che ci sia a fianco la Monte de Jura come dicevamo prima ci dice che siamo vicino a una struttura geologica che è datata al giurassico quindi che non è voluta tanto e poi chiaramente se uno costruisce questa cosa in un posto molto remoto ha il problema che deve portarci tantissime infrastrutture bisogna portare la corrente fino al posto remoto bisogna portare le strade fino al posto remoto bisogna portare le connessioni internet per il trasferimento dei dati fino al posto remoto quindi in realtà le ragioni che secondo me hanno guidato questa scelta sono state dal punto di vista tecnico avere un suolo stabile cioè niente terremoti niente smottamenti o spasamenti di falde di faglie scusi e abbastanza connesso con la rete elettrica globale poi all'interno dell'Unione Europea ci sono state diverse candidature anche Ispra è stato un sito che era stato candidato per queste cose poi a un certo punto subentrano anche argomenti di carattere politico su dove fare su dove costruire una qualunque istituto internazionale qualche anno fa se vi ricordate c'era stata la possibilità che arrivasse la sede dell'EMA per il controllo di farmaci a Milano e poi da qualche altra parte a un certo livello anche queste anche queste argomentazioni entrano nel calcolo ci sono ho visto un'altra domanda scusa Pietro mentre raccoglio la domanda vorremmo far vedere il video di come venivano fatte scendere le slice di cui dicevamo prima di CMS nel buco io devo fare qualcosa avendo tutto no no dovreste vedere tutto esatto quindi come vedete questo qui era una volta aperto il detector e questo è quando abbassano l'ultima parte del detector qui vedete le varie fette staccate che vengono assemblate assieme vedete quelli che vedete all'interno è il era il magnete superconduttore questa è la superficie spesso per lavorare diciamo in queste condizioni bisogna fare dei veri e propri corsi di preparazione di esempio lavoro su corda per essere sicuro che gli operai abbiano tutte le le conoscenze necessarie per evitare incidenti sul lavoro qua su queste cose il CERN è molto molto stringente se uno non ha fatto i corsi e non ha quindi tutti i permessi per scendere come avete visto prima il badge non funziona e non c'è modo che riesca a scendere per fare il lavoro questo è un modo per limitare gli incidenti e qua vedete che l'ultima l'ultima fetta viene calata nel buco dalla superficie lentamente ovviamente questo è accelerato non c'è e qua vedete come vedete è accelerato come i uomini sono molto efficienti gli svizzeri come lavorano veloci nel video vedete che qua la sistemazione delle ultime parti qua vedete i cavi in acciaio per sostenere la discesa e scusa era solo per di ciò che abbiamo trovato il video molto bello dieci ore di discesa c'è una domanda qui prego ok in realtà ho due domande la prima qual è la velocità minima che permette al fascio di elettroni di entrare nell'LHC e la seconda invece è cosa distingue il CMS rispetto agli altri punti di collisione ok hai detto elettroni ma in realtà intendevi protoni perché questo diciamo gli elettroni era il LEF qua non c'è scritto la velocità non mi ricordo il primo il primo step che viene fatto mi sembra che cioè a un certo punto vengono accelerati a 400 jeb ma non mi ricordo se è la velocità più bassa che si può raggiungere oppure no un secondo dal punto di vista relativistico voi sapete che è una parte noi sappiamo che una particella non può superare la velocità della luce quindi quando una particella si avvicina alla velocità della luce parlare di velocità è solo scomodo perché si vuol dire 99,99997 oppure 99,98% della velocità della luce non si capisce più niente allora invece di utilizzare la velocità delle particelle si dice quanta energia queste particelle abbiamo ricevuto nell'accelerazione quindi quando Simone parla di GEV sta parlando di unità di misura di energia GEV vuol dire giga elettronvolt l'elettronvolt è l'energia che riceve un elettrone quando viene accelerato con la differenza di potenziale di un volt e quello è un elettronvolt due elettronvolt vuol dire che l'elettrone è stato accelerato con due volt qui due elettronvolt un giga elettronvolt vuol dire 10 alla 9 volt per un elettrone quindi quando si parla di GEV si parla di energia che è un modo più pratico di parlare di velocità di particelle in regime relativista scusa è fatto benissimo io do per scontato cose che in effetti scontate non sono si parla appunto il giga è un miliardo appunto di elettronvolt c'era un'altra parte di domanda che non ricordo quindi la domanda era quante sono le varie velocità i vari stadi di accelerazione ogni volta che si passa diciamo vedete dal PS dal booster al PS all'SPS fino all'HC si accelerano sempre di più in LHC si possono avere mi sembra l'energia minima di collisione 900 GeV nel centro in massa e poi le particelle una volta lì ci viene quello che viene chiamato il ramp up ossia una volta riempito tutto LHC con i pacchetti vengono portati da queste 450 GeV per fascio e fascio ovviamente sono due quindi in totale 900 GeV vengono portati ai quasi 14 TeV di energia totale per lo sconto sono Tera ed Eletron Volt sono 10 alla 12 Eletron Volt che passano da 10 alla 9 a più di 700 e la seconda domanda è che differenza c'è tra CMS Atlas è quello che funziona meglio chiaramente anche più colorato no scherzi a parte diciamo CMS e Atlas sono quelli che vengono chiamati gli esperimenti general ossia non hanno un target unico ovviamente sono stati disegnati per esser sicuri di trovare bosoni di X se ci fosse e se fossi stato quelle caratteristiche che conoscevamo dalla teoria e quindi c'è stata particolare cura ad essere sicuri che in determinati canali specifici noi saremmo stati sarebbe stato possibile per noi per Atlas vederlo e così è stato però hanno anche un insieme di feature di componenti che gli permettono le caratteristiche che gli permettono di studiare qualunque aspetto della fisica a un acceleratore di particelli LHCB e ELIS invece sono peculiari per tipi diversi di fisica ogni tanto invece che far scontrare protoni con che protoni LHC si diverte a far scontrare nuclei di piombo quindi piombo piombo e LH Alice è stato pensato per studiare questo tipo di interazioni e studiare tutto quello che viene prodotto dalle interazioni piombo piombo LHCB invece è un detector asimmetrico ha soltanto la parte in avanti non è simmetrico come CMS o Atlas quindi non ha una parte avanti e dietro ma soltanto una parte è ottimizzato per lo studio della fisica relativa a queste particelle di cui parlava anche Pietro prima che sono i mesoni B quindi sono i particelli che viaggiano un po' e poi decadono e si misura le particelle che provengono dal decadimento di questi mesoni e a seconda della posizione in cui queste particelle vengono ricostruite si capisce quanto hanno vissuto questi mesoni prima di decadere e tutto l'apparato di LHCB è pensato e ottimizzato per queste misure specifiche c'è un'altra domanda poi viceversa per esempio AGLAS è molto più grande che consente per esempio di raccogliere tutta l'energia di tutte le particelle CMS invece è compatto cioè piccolo quindi per esempio a volte rischia con certi tipi di particelle rischia di perdere parte dell'energia quindi la misura è più imprecisa però al contempo per esempio ha il magnete che è tutto condensato intorno alla parte interna del rivelatore quindi non disturba le prime fasi di misura non è questo invece il caso di ATLAS questo è solo un esempio per cioè di tutta una serie di caratteristiche che sono diverse nell'una e nell'altro appositamente quindi non sono due copie della stessa struttura sono nati per diciamo controllare l'un controllarsi l'un l'altro in qualche maniera sì c'è da dire che CMS è stato anche il detector più innovativo pensato è il primo detector al mondo di queste dimensioni avere un tracciatore quindi stiamo per misurare le particelle cariche interamente basato sul silicio ATLAS non lo ha e nessun altro esperimento prima l'ha mai avuto il magnete di CMS è di 3,8 Tesla contro i due Tesla di ATLAS anche questo era una sfida ingegneristica molto importante quindi su CMS c'erano molti punti interrogativi tutto doveva funzionare bene e assolutamente fin dall'inizio ATLAS era più conservativo e quindi si basa su delle tecnologie che all'epoca quando sono stati disegnati erano comunque all'avanguardia ma erano anche già conosciute quindi diciamo era fra i due quello appunto più conservativo sul quale si scommetteva che sicuramente avrebbe funzionato quindi dall'inizio abbiamo un'altra domanda ha funzionato anche CMS certo prego abbiamo parlato nell'introduzione prima del collegamento della della questione legata al gravitone della sua possibile esistenza e si è stato sottolineato di come questa al momento si sono una questione teorica legata ai problemi dell'applicazione dei metri matematici e meccanica quantistica alla questione della gravità ma di come esistano teorie alternative al momento senza qualsivoglia dimostrazione sperimentale che appunto parla di questa particella fondamentale e dato che prima avete accennato alla costruzione di un nuovo acceleratore la domanda è ci sono le possibilità o addirittura l'esistenza possibile del gravitone il motivo che spinge alla costruzione di questo acceleratore quindi in un futuro ci possiamo aspettare un bosone di X parte 2 in cui verrà scoperto con energie maggiori o al momento è una questione ai limiti della fantascienza e comunque non gli interesse appunto di breve durata di breve termine no no hai colto nel segno diciamo il problema è che noi siamo limitati nello studio delle interazioni fondamentali dalla massima energia disponibile perché se tu fai collidere i protoni come diciamo prima ogni fascio a 7 tev 7 e 7 fa 14 in realtà non sono esattamente 7 ma serve a poco idealmente tu puoi creare una particella che abbia un totale di energia che si conserva che non può raggiungere non può superare i 14 tev ora se poi andiamo a vedere qua si entra un po' in una cosa molto delicata però i protoni non sono particelle elementari i protoni a loro volta sono costituiti dei quark non so se qualcuno di voi si ricorda il programma televisivo di Piero Angela che si chiamava appunto quark prima e poi super quark e prendeva il nome proprio da queste particelle che sono i costituenti dei protoni quindi quello che in realtà avviene a LHC è che i protoni si attraversano e i quark si vedono e sono loro che interagiscono questo però vuole anche dire che l'energia totale a disposizione è minore dei 14 TeV perché in un protone ci sono tantissimi quark e ogni quark porta soltanto una frazione di quell'energia quindi di fatto noi se esistesse una particella che ha una massa tale per cui la particella prodotta avesse esattamente 14 TeV di energia a riposo non riusciremo mai a vederla con Cernel sarebbe il gravitone questa particella potrebbe essere particella potrebbe essere anche altre particelle non necessariamente noi cerchiamo il gravitone è sicuramente adesso una cosa molto interessante per via delle onde gravitazionali e delle ultime scoperte però c'è ancora tante particelle che cerchiamo che sono state ipotizzate e non sono ancora state trovate la materia oscura ad esempio e quindi l'idea di costruire il prossimo acceleratore è proprio quello di estendere questi confini e andare oltre quello che riusciamo a raggiungere con LHC per sondare diciamo uno spazio che ancora non è accessibile se volete come in Star Trek dove loro si spingevano laggiù verso la frontiera dello spazio andare ancora più lontano per noi andare ancora più lontano vuol dire costruire dei acceleratori più potenti che diano la possibilità di produrre delle particelle più massive quindi di più alta massa di più alta energia rispetto a quelle che possiamo fare adesso altre domande da in fondo arrivo è un colpo al microfono la costruzione di nuovi acceleratori potrebbe nel futuro molto lontano essere limitata da problemi tecnici legati alla necessità di costruire di dimensioni sempre maggiori e quindi non avere lo spazio disponibile allora in realtà al momento la cosa che è il fattore limitante è la tecnologia per accelerare protoni ad energie superiori ai 14 terri quindi questo nuovo acceleratore che si chiama FCC il future circular collider è previsto essere fatto in due step un primo step molto probabilmente sarà un collisionatore non protone protone ma elettrone positrone così come era il LEP perché noi già sappiamo accelerare elettroni e positroni a energie sufficientemente elevati per spostare leggermente il limite ok e ad esempio produrre bosoni di X in quantità e in una situazione molto pulita dal punto di vista sperimentale per studiarli nel dettaglio questo ci garantirà un tempo necessario per sviluppare tutta la tecnologia necessaria per i nuovi magneti di nuova generazione che sono sotto studio adesso però non sono ancora realizzabili per accelerare protoni alle nuove accelerazioni alle nuove energie e quindi diciamo ricreare quello che è stato fatto in passato tra l'EP e l'HC ossia passaggio da collisionatori di elettroni a collisionatori di protoni su questo nuovo acceleratore su queste tecniche di accelerazione l'Italia è all'avanguardia c'è una una scuola di acceleratori molto importante a Frascati e anche a Milano e uno diciamo dei dei lavoratori che ha dato un contributo maggiore all'HC è Lucio Rossi che adesso è professore a Milano in statale e quindi insomma è una cosa su cui l'Italia sta puntando anche abbastanza risorse per darvi un'idea rispetto a quello che si diceva prima semmo sui magneti attualmente i magneti per DMLHC raggiungono gli 8 Tesla e per FCC quando faremo collisioni tra protoni dovremo arrivare a 16 Tesla quindi è una cosa che adesso non siamo in grado di fare ma con la ricerca che era fatta adesso già fino a quando FCC protone protone inizierà a operare speriamo di averlo l'inizio è previsto che era collisioni tra protoni nel più o meno anni 2070 c'è abbastanza strada abbiamo tempo poi c'è anche a dire che ultimamente non vogliamo soltanto costruire un acceleratore ma vogliamo che sia anche sostenibile quindi c'è anche i gruppi di lavoro che studiano fra tutte le possibili soluzioni quelle che hanno un impatto minimo sull'ambiente sul riscaldamento globale sull'necessità di energia alternativa per farlo funzionare come dicevo l'idea era quello di costruire un mini reattore che producesse l'energia tramite diciamo reazioni nucleari l'energia necessaria per far andare FCC riuscire poi ci sono anche progetti per cercare di capire come riutilizzare la terra che verrà tolta dai tunnel che verranno scavare perché il tunnel è di 90 km e quindi verrà tolta un bel po' di terre progetti per capire dove metterla come riutilizzarla fare come renderla terreno perfile un tappeto gigante sotto il tappeto un tappeto enorme altra domanda una io ho una domanda sulla struttura della appunto di quello della struttura cioè i buchi che ci sono chiamo buchi in modo improprio però che ci sono per calare il materiale all'interno del laboratorio non danneggiano un po' anche il motivo per cui è sottoterra cioè non creano più danni che altro questo è un cioè se ho capito la tua domanda questo è un punto interessante in CMS e si vede cioè uno dei motivi per cui è sottoterra l'acceleratore è in parte il fatto che si voglia schermare dai raggi cosmici quindi ci sono particelle che sostanzialmente arrivano dal cielo che noi non vogliamo vedere perché a noi interessa la collisione che avviene sottoterra e basta quando eravamo giù vedevate che c'è il cilindro di CMS e il buco è solo da una parte quindi sostanzialmente da un capo e dall'altro di CMS al di sopra da una parte c'è più terra dall'altra ce n'è meno quindi c'è più materiale o meno materiale e effettivamente si vede che dal lato dove c'è sopra il buco passano più raggi cosmici perché c'è appunto meno materiale schermante questo però è un effetto che siamo in grado di correggere e di gestire non crea problemi e se intendi anche altri sotto altri punti di vista quindi che ne so stabilità del sole e quant'altro c'è poco da fare nel senso che le operazioni diciamo CMS è stato calato e rimasto giù però le operazioni diciamo di trasporto sopra e sotto quando ci devono essere degli aggiornamenti del rivelatore devono essere fatte quindi diciamo non è che si poteva tappare il buco per esempio fra uno o due ammetti verranno estratti verranno estratte parti di rivelatore verranno portate in superficie perché dovrà essere cambiata l'elettronica dal momento che insomma col passare del tempo e con la radiazione si deteriora quindi diciamo è vero ha degli effetti avere questo buco sopra un lato di CMS però è necessario è inevitabile comunque diciamo i possibili fastidi sono veramente minimi sì però è una domanda sensata altre domande là in fondo intanto ne faccio una io Giulia, Aurora come siete arrivate lì? in macchina sì ma il percorso nostro è stato abbastanza simile abbiamo fatto entrambe fisica intriennale fisica in bivocca sì poi per la magistrale abbiamo scelto il ramo di fisica delle particelle io in realtà avevo iniziato con tecnologie quantistiche questo però per dirvi che quello che scegliete all'inizio poi non determina la vostra carriera se volete cambiare nel limite del possibile si può fare durante la magistrale abbiamo avuto l'opportunità di passare un periodo al CERN ho lavorato sulla parte di high level trigger che di cui abbiamo parlato prima con in particolare l'utilizzo di GPU Giulia invece ho fatto una parte di analisi invece di produzione di doppio X cioè due X in contemporanea poi entrambe abbiamo fatto la tesi magistrale in collaborazione con CMS argomenti diversi però questo ci ha permesso di entrare in contatto sempre di più con l'ambiente e anche di passare qui un altro periodo poi abbiamo preso il dottorato in Bicocca e abbiamo applicato per questo progetto che si chiama Doctoral che il CERN offre che permette di fare tre anni del dottorato al CERN e siamo state prese e quindi adesso io mi sto occupando di ricostruzione degli eventi in CMS per la fase di altro ministero in realtà per i nuovi rivelatori che verranno messi tra qualche anno io invece sto aiutando a scrivere il software per l'acquisizione dati che verrà utilizzato a partire dalle prossime acquisizioni dati fra 6-7 anni quando verrà cambiata tutta l'elettronica dei rivelatori e verrà fatto un upgrade dell'intero detector quindi alla fine siamo arrivati qua facendo fisica in Bicocca e tesi nell'ambito di CMS e tramite scuole per esempio estive offerte dal CERN o poi internship offerte dal CERN sempre col sostegno dell'università esatto dei professori che vi circondano in questo momento che ci hanno portato qua ok la mia domanda era avete parlato di all'interno dell'acceleratore di collisioni elettrone e positone che mentre nel caso che cosa si ottiene dallo sconto di particelle elementari come per appunto elettrone e positone oltre a radiazioni gamma puoi creare esempio a seconda dell'energia a cui li fai scontrare se tu li fai scontrare e notare che la somma delle loro energie sia la massa del bosone Z produci appunto questo bosone che è il bosone responsabile delle cosiddette interazioni deboli e viene prodotto un bosone fermo e questo decade subito in altre particelle e tramite lo studio delle particelle che decadono a questo bosone è stato possibile studiare in maniera accurata le previsioni del modello standard delle particelle elementari per esempio in particolare è stato è stato possibile vedere che le previsioni che erano al momento disponibili non descrivevano esattamente tutto quello che veniva prodotto dal decadimento del bosone Z ma c'era bisogno di delle correzioni piccolissime però misurabili e quindi è stato se vuoi uno dei casi in cui gli esperimenti erano davanti alla teoria in genere sono delle fasi in cui la teoria e gli esperimenti si alternano per cui in questo caso la teoria prevedeva certe cose gli esperimenti hanno misurato altro e la teoria si è corretta ha capito come calcolare queste correzioni le ha calcolate esattamente in modo tale che poi di nuovo la teoria e l'esperimento ritornassero sullo stesso livello se poi uno aumenta l'energia l'abbiamo detto prima la natura è anarchica quindi a bassa energia vengono prodotti soltanto fotoni quando si arriva a 90 GeV che è l'energia della produzione della massa della Z viene prodotta un bosone Z se si arriva a 160 GeV vengono prodotti due bosoni vettori W un W più un W meno se si va ancora oltre si incomincia a produrre un bosone vettore W insieme a un bosone di X ancora più avanti un bosone vettore Z insieme a un bosone di X quindi aumentando l'energia dei fasci aumenta l'energia della collisione nel centro di massa e quindi aumenta ragazzi per cortesia l'energia a disposizione della natura per fare quel che vuole la fisica la fisica delle particelle ha sempre avuto una sorta di respiro quando ha costruito gli acceleratori si passa dalle misure di precisione quando si ha tutta l'idea dei pezzi che compongono una teoria ma non si capiscono i dettagli alle misure di potenza allora l'HC è una macchina di potenza non si sapeva se il bosone di X ci fosse ma hanno dovuto costruirlo per trovarlo trovato il bosone di X il passo successivo è caratterizzarlo nei dettagli con una macchina di precisione quindi FCC Future Circular Collider e E cioè con elettrone anti-elettrone avrebbe questo scopo di dare ai fisici la possibilità di fare misure di precisione col bosone di X per capire dove siano le debolezze della teoria come diceva Simone prima rivelano i dettagli dove si annidano le differenze rispetto alla teoria che ci aspettiamo c'è un'altra domanda qua è ragionevole ipotizzare che le particelle elementari non sono poi così elementari ma sono fatte da qualcos'altro beh diciamo dipende se la chiami è un problema semantico di cosa chiami come elementare oppure no per i protoni a un certo punto si pensava fossero particelle elementari e poi di nuovo gli esperimenti hanno mostrato che c'erano delle strutture all'interno del protone lo hanno visto facendo scontrare protoni su protoni o anche elettroni su protoni i famosi tip in elastic scattering che studierete se farete fisica appunto all'università e hanno quindi fatto vedere che quello che veniva considerato una particella elementare in realtà non lo era e sono stati ipotizzati i quark e il modello a quark sugli elettroni ad esempio uno nessuno vieta di immaginarsi una situazione analoga ossia che quello che vediamo in realtà non è realmente una particella elementare ma è composta da altre particelle elementari il problema è che tutte le misure fatte al momento sugli elettroni sullo scattering hanno mostrato che entro che entro la precisione raggiuncibile non ci sono strutture all'interno dell'elettrone che non vuol dire che non ci siano in assoluto ma con diciamo i mezzi a nostra disposizione non sono misurati e quindi di fatto per noi per i nostri scopi l'elettrone può essere considerato una particella elementare perché anche se ci fosse la struttura al suo interno noi non ne siamo affetti dobbiamo anche ricordarci che gli acceleratori di particelle generano tantissime collisioni alta energia però il vantaggio principale non è il fatto che sia l'energia più alta mai raggiunta ma che le collisioni siano tante tutte nello stesso posto cioè ci sono particelle molto più energetiche che noi possiamo osservare che sono quelle che arrivano dai raggi cosmici il problema dei raggi cosmici è che arrivano a caso quindi uno è un po' costruisce MS che pesa altre volte la tua rifella metterlo su un grande carrellino e incorrere i raggi cosmici per misurarvi quindi il vantaggio dell'HC è la statistica oltre che l'energia però evidenze di fenomenologia di interazione delle particelle elementari a energie anche molto più alte cioè il peta e il tronvolt derivano dall'osservazione dei raggi cosmici e quindi il quadro generale della fisica delle particelle viene dall'unione di tutte queste informazioni è nella nostra disposizione ad oggi nemmeno dalle misure di raggi cosmici abbiamo segni che entro questa energia che abbiamo accesso le particelle che consideriamo elementari siano composite chiaramente questo discorso possiamo farlo arrivo subito per le particelle che osserviamo il bosone di X non c'è nei raggi cosmici quindi quello chi lo sa scusa Simone no no niente voglio dire qua ci fanno segno che dobbiamo dobbiamo chiudere insomma il tempo a nostra disposizione è finito se ci sono altre domande prendiamo magari l'ultimo le ultime due poi dobbiamo scollegarci ci sono altre domande una buongiorno volevo chiedere com'è che collabora la teoria con gli esperimenti che fate allora diciamo ci sono dei gruppi di lavoro in cui si mischiano teorici e sperimentali ci sono le conferenze partecipano sia teorici che sperimentali in genere un gruppo interessato a uno sviluppo teorico quindi vuol fare una misura ad esempio di un certo processo che la teoria prevede avere una certa probabilità di accadere ad l'HIC fa la misura e poi contatta anche il teorico e dice guarda noi abbiamo misurato questo a te dicevi quest'altro e iniziano dei scambi di lavoro insomma c'è molta fluidità fra le informazioni e il lavoro gli uni non potrebbero vivere senza gli altri Giulia stesso una delle tesi l'ha fatta quasi in fisica teorica è facile che diciamo una cosa derivi nell'altra soprattutto per esempio se fai analisi di fisica quindi diciamo la fase finale degli step di cui abbiamo parlato di selezione degli eventi cioè quando hai gli eventi che sono stati ricostruiti cioè se hai un muone sei sicuro abbastanza che è un muone e così via a quel punto c'è tutta una serie di analisi di fino che vanno effettuate e lì entra dentro tanta statistica e tanta fisica teorica perché diciamo l'analisi di base consiste nel confrontare i dati che hai raccolto con il CMS e le simulazioni che i teorici hanno fatto e se studi dei processi specifici entri in contatto con i teorici chiedi che la simulazione sia esattamente quello il processo che tu stai cercando di vedere se cerchi per esempio di vedere se ci sono nuove particelle hai bisogno di qualcuno che ti teorizzi queste nuove particelle per avere appunto una simulazione diciamo se ci fosse questa nuova particella dentro il rivelatore come la vedrei come verrebbe interpretata e vediamo se i dati che ho raccolto corrispondono con questa nuova teoria quindi diciamo è questa la deriva teorica che facilmente anche una tesi di fisica sperimentale può prendere insomma in generale ovviamente il lavoro di una ricerca sperimentale può prendere un'ultima domanda mi è venuta in mente una domanda per voi al CERN si lavora soltanto sulla fisica delle particelle o ci sono unità che invece collaborano con altri ambiti della fisica cercano magari dei punti in comune o sono concentrati su una ricerca prevalentemente su altri ambiti no si si lavora su moltissime altre cose fra l'altro il CERN ultimamente ha creato degli spin off anche per monitorare l'ambiente la qualità dell'aria si studiano materiali innovativi quindi è veramente una cosa tutto tondo non c'è soltanto molta fisica c'è molta ingegneria c'è studio di elettronica particolare ovviamente resistente alle radiazioni ma non solo si cerca anche di trovare utilizzi in campo medico di quello che viene studiato e viene costruito dal punto di vista rivelatori al CERN quantum technologies ultimamente quantum technologies intelligenza artificiale quindi tenta di abbracciare diciamo qualunque cosa che sia relazionata al nostro lavoro ma può avere anche un impatto fuori e viene sviluppata anche avendo in mente di produrre qualcosa fuori l'aspetto più eclatante è come si dice sempre la nascita del world wild web è nata qua al CERN e ci sono stati i ricercatori del CERN che hanno bisogno di un modo per trasmettere le informazioni velocemente da un sito di analisi come il CERN all'università che magari si trovava in Inghilterra in Italia o in Germania e allora hanno trovato questo sistema ipertestuale il web per appunto lo sharing di informazioni in maniera veloce e lo hanno donato a tutto il mondo se avessero messo una piccola parcella di un centesimo di euro per ogni utilizzatore avremmo risolto i problemi di budget per i prossimi secoli però non è così le scoperte scientifiche devono essere a disposizione di tutti e l'outcome deve essere a disposizione di tutti e così è sempre stato con questo noi dobbiamo veramente interrompere Simone Giulio Aurora noi vi ringraziamo tantissimo thank you very much as well ciao 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 grandissima